... Cambiamo il sistema! Cambiamo il sistema! ...da un'amministrazione comunale che ha approvato una dichiarazione di emergenza climatica ma che governa una città in cui i livelli di inquinamento atmosferico raggiungono quelli di Pechino. I ragazzi ci chiedono perché noi siamo qua, molti proprio per scherrirci dicono che siamo qua soltanto per saltare scuola. In realtà noi siamo qua per creare un futuro, di parlare di tutti i progetti ambientali che sono un sacco e ci sono un sacco di problemi da dover trattare. Il cambiamento climatico è uno dei primi emissioni di CO2 da parte delle aziende, da parte delle multinazionali che le usano in quantità enormi e che dobbiamo debettare. L'utilizzo del carbone che ormai è un'energia obsoleta e che non può più esistere in un mondo ecosostenibile. Quindi le energie rinnovabili ma anche la raccolta dei rifiuti, dell'inquinamento dei mari. Insomma un sacco di tematiche che stiamo trattando anche oggi attraverso dei dibattiti che abbiamo fatto qua in piazza. Quindi noi sì siamo di protesta, agiamo e discutiamo in modo pacifico. Voglio tenere anche a ricordare che noi siamo a partidici, quindi non interessa la politica perché per noi l'ambiente non deve far parte di un solo gruppo politico ma deve essere nella mente di ogni cittadino. Abbiamo un centro statico che sta sopra delle colline circondate da mura. Queste mura sono così belle, così particolari, così singolari che l'UNESCO le ha dichiarate patrimonio dell'umanità. E poi ci facciamo dentro un parcheggio di nove piani. E' qui che nasce No Park in Farah. Noi non vogliamo permettere una cosa del genere nella nostra città. Domanda logica, cosa ci facciamo qua? Cosa sentiamo noi con Greta? Noi sentiamo tanto con Greta, sentiamo tanto con voi. Quel parcheggio in città alta porta ogni giorno 5.000 auto private a inquinare per tutta Bergamo salendo fino a città alta.